Paglietta in testa, giacca, cravatta e il coro dell'ordine goliardico della scuola. Così gli studenti dell'Istituto Tecnico Buzzi di Prato hanno accolto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini nella seconda tappa del suo mini-tour toscano, apertosi in mattinata al liceo classico Machiavelli di Lucca, scuola in cui il ministro ha prima studiato e poi insegnato. Un doppio appuntamento all'interno della riforma per costruire la buona scuola, come l'ha definita il premier Matteo Renzi, con l'obiettivo da un lato di ascoltare e confrontarsi direttamente coi ragazzi e gli insegnanti, dall'altro di spiegare loro le novità previste dalla riforma, tra queste quella delle 200 ore di tirocinio obbligatorio. Quindi scuola-lavoro perché da lì comincia il vero strumento per superare il problema, uno dei problemi che provocano disoccupazione, cioè il disallineamento tra le competenze che servono e quelle che la scuola fornisce. Punto questo su cui una cinquantina di studenti delle superiori provenienti da Firenze hanno contestato il ministro, scandendo cori e appendendo cartelli fuori dall'Istituto Pratese. Il tirocinio per noi è un lavoro non pagato e quindi diventa sfruttamento. Un'azienda meccareggia, un'azienda ospedaliera si regge per il 30% sul tirocinio, vuol dire che un'azienda ha bisogno di lavoro non pagato. Parole che seguono le manifestazioni di piazza dei giorni scorsi, cui Giannini ha risposto definendo rivoluzionario il fatto di non essere andati con una legge in Parlamento, ma piuttosto di avere aperto una consultazione online e un confronto diretto col mondo studentesco per costruire insieme la scuola di domani.